buongiorno a tutte mi chiamo maria giovanna sono la maria jo che ha progettato questo tipo di telaietti in legno sono qui per presentarvi tutta la nostra serie inizio dal telaio di base quello che consiglio per imparare a lavorare con questo telaio lavoriamo a fili pari quindi abbiamo quattro spine nella misura piccola 6 spine nella misura media 8 spine nella misura grande ci permette praticamente di fare dei quadrati sempre con dei lavori con delle stelle le stelle nel quadrato piccolo si possono mettere centrali oppure se ne fanno 4 sia un disegno in questo modo con la lavorazione normale si hanno tutti gli incroci chiusi e si fa una specie di reticelle in questo modo aumentando le dimensioni del quadrato aumentiamo anche le possibilità di disegni quindi facciamo nel quadrato medio una serie di stelle in questo modo possiamo fare un altro tipo di disegno e nel quadrato grande abbiamo ancora la possibilità di farne di più tutto questo lo vedremo più avanti in altri prossimi video esiste un altro telaio quadrato con il quale lavoriamo di dispari è leggermente più piccolo dell'altro e quindi abbiamo tre spine nel quadrato piccolo 5 nel quadrato medio e 7 nel quadrato più grande qui la differenza cos'è che avendo dei fili di numero diverso facciamo dei disegni diversi un pochino più complessi da fare perché bisogna spostare i fili in varie maniere e anche questo potremmo vederlo più avanti l'altro telaio si chiama stecca telaio lavora in orizzontale e permette di fare una misura massima che questa posizionando le spine all'esterno si lavora poi regolando le spine verso l'interno per fare le misure più piccole quindi con questo formiamo dei rettangoli i rettangoli sono fatti in questo modo quando si staccano e anche questi vengono uniti poi sempre usando l'uncinetto in altri modi oppure si possono anche realizzare delle fasce da mettere al collo tipo degli scaldacolle lo vedremo in seguito su un altro video poi altre novità è il telaio ottagonale lavorando in due o tre dimensioni forma dei rosoni tipo questo per il momento con una lavorazione unica con un disegno unico che si segue guardando bene le istruzioni poi che troverete dentro il telaio posizionando le spine al centro si possono realizzare anche dei singoli fiori da usare come spille